Ciao a tutti, sono Tony D'Alessio del Banco del Mutuo Soccorso e quest'anno il mio 5x1000 lo sarà dedicato, sarà devoluto all'associazione Baba Room che ne farà sicuramente un ottimo impiego per la cura di malattie rare dei bambini e esorto chiunque non abbia già un obiettivo preciso a fare la stessa cosa. Un abbraccio. Grazie a tutti.